Ciao a tutti ragazzi Ciao Sono Igor e il tanke Ma lo sanno chi stiamo Questo che è il nostro secondo episodio Sono Sand X-Ray Lui vi prende come intelligenti Perché voi siete intelligenti Però lui è più stupido Voi siete intelligenti e lui è stupido Questo video era per le altre due mappe Adesso vi mostriamo Vertigo Vertigo Io stavo guardando Arrow E c'era la droga più letale E si chiamava Vertigo E' una droga sto Sta mappa Black Ops 2 è una droga Comunque questo si basa tutto sopra una Grazie a me La pace Guardate Lo scudo dorato ma così si vede male Dorato è diamante Diamante si vede male Non ti preoccupare adesso lo tolgo E' solo per farti vedere che ce l'ho Lo lasciamo lì Lascio lì C'è guarda che bravo Questa è una droga Hai ucciso No No Zio Beh tanto ci vai come No Dai dai puttano La stata terra dei cosi però Lo sono Una volta che ho No Non mi scudo Adesso ci vai Dai vai Il primo O va al coltello Diamante Oppure E anche il coltello Ma se si riconoscire Coltello diamanti Sono diamanti Tutte le Vabbè Vabbè Il coltello balistico Vabbè Diamantatore Ma ve andiamo Qui vedete Il pannelli salari E' inutile che fa vedere No E' inoltre E' inoltre E' inoltre E' inoltre Se Vedete Varese Ne mi chiamo A Varese Viboria Varese Varese sei morto sei morto e ci si è il sesto hai detto tutto il testo sei morto per la resta con te utolari e tutto via che non si capisce ok allora noi prima siamo nati dove non guardate niente chiudete gli occhi e non cambiate video che cavolo fai e guarda tutto attraverso non così non vedi anche tu tutto masso non è vero non lo conoscemo ai testi ecco qua è un passaggio sotto non è segreto allora scala loro lo sanno già allora eccoci qui allora eravamo qui buttati i siamo felicemente morti però guarda si può fare una cosa te hai rotto però come fai lasciarlo giù guarda a andando 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 ecco quelle rivista andando e adesso ti puoi farò un cross e mandato andando con questo non è spesso fai un cross e mappure di questi andando 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 l'ascompa andando 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 scopera anche il caso andando 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 and riscono ieri ieri ieri. inizio di del clima stati attenti quanta quanta qua siamo dentro ma non è un po' un clou un cane cattivo dovuto cani cattivo rotto ma non è scattiamolo rotto perché fa la roba sbaglio stai rompendo tutto non so se non c'è l'estitore sola apriamo benvenuto sono dentro ecco un'altra parte stante posto ci sarà un'altra stanza qua vediamo che io ero planino in grado attacco non si può perché loro no per farti vedere che è lì sono per avere qui sarà sotto vediamo anche non si può andare sotto assist qui usciamo dall'altra parte dove ci sono dei carini non diamo no adesso qua si può andare anche qua sotto vediamo naturalmente con la giapponese che adesso prendo in testa e ciò nell'occhio mamma mia e ciò 10 entra che bravura spaccato il senso di tempo qui faranno le assemblee sindacale i nostri snack fanno schifo e vorrei basta sdiarti basta lei licenza vabbè dicevamo i nostri snorber cosa ha fatto metallo i nostri snack fanno schifo un altro zombie scena da qui nudo 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 essi in piedi staccato un ugghi e ci ho fatto il biscotto ma dove eravamo prima ma dove stanno andando se sono belle come mappe dai cioè mi piace di più rispetto alle altre erate sono casinatissime sono in casa oh eh c'è l'altro eccoci qui è un magazzino dove campereranno tutti qua dentro non si può mamma mia non si può farmi o è un bag questo non si può camperare è un bag noi non siamo tipi da camperon da camperare infatti no io no ma neanche io un mega club nega cani guarda luoghi no questo è il coso è lo stasso no mi sento eccitato calma i tuoi ormoni scusa ma cos'è sto sono le regate cibo wow ho messo il mondo con i droni d'attacco eh mi piace molto sto mappo ma vuoi dire che hanno messo tutte le cose le tale non buttarti non mi sto buttando no 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 questo è niente ah vedete che ero dove ho detto che ci sono le scale non prima poi ci troviamo qui vedete se c'è un passaggio che forte non l'avevo visto non l'avevo visto però il problema è scendere lì ah ecco ce l'hai fatto non fatelo voi bambini a casa vi potesse fare male non buttatevi dai grattacieli non ci sono persone noi siamo figli ok 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 colpisce colpisce dietro dietro si quello ma perchè e c'è sempre bagnato e c'è sempre bagnato e c'è 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 però mi sembra che si possa salire lì ma facciamo un favore verrebbe no facciamo un omaggio ai nostri stai zitto sto facendo un omaggio scusa noi vogliamo mi stavo facendo stai ma porca miseria no dicevamo ok bellissimo ahahah vogliamo ahahah porta segreto no è poi così segreto però e io prima pensavo fosse chiuso quando abbiamo provato io sono arrivato qui e ho detto cosa stai a questo posto quindi vabbè vai di là dove eravamo e continuiamo di qui vabbè e diciamo che qui c'è a metà detector noi siamo grandi fan di the face game noi stiamo facendo pubblicità però sono bravi ma che siete brutti no scherzo no sono toscani toscano sono toscani si quello quello che parla è toscano quello che si chiama taylor taylor e tutti hanno detto drift lui si chiama taylor e noi ci chiamiamo qui vedete un mezzo vitor c'è tutto possiamo attaccare l'interno via c'è stato solo noi ci siamo questo sarà 30.000 persone non esistono sono bug qua vedete il passaggio che vi ho detto c'è la scelta si diritti di qui no qui possibili no di là c'è la scelta vedi di qua di qua i passi e poi mi ritrovo da qua no e vai che boss rs buttati no eh ma che ti è stato fatto faceva schifo ah vabbè passiamo alla seconda mappa che sarebbe la più bella secondo me riconoscella è bella è bella eh ma non è la più bella questa mi ispira questa si questa è bella eh questa è molto bella però dovete sapere che a me ci sono nomi che ispirano e vertigo mi ispira oh no ma perché studio che sarebbe il vecchio Firingeranger esatto a me piace un voto più che altro la parte della città dove ci sono le macchinine la parte più bella di tutto io ci ho non anticipare io ci ho messo dieci anni a capire che questo era finito era finito non mi ricordavo cos'era finito cosa fosse cosa fosse basta correttimi anche se la prima volta anche se io ho black ops 2 black ops 2 black ops 2 mv3 e mv2 quindi dovrei avere anche io ce le tutte e tre cioè tutti mv2 black ops e mv3 e black ops ah no no noi siamo sotto allora vedete qui già non si può andare questa cosa non mi piace infatti mi sono abbiato lì sulle maschine non lo sbagliare maschine le maschine si tra l'esercito si capisce subito non vivo fa schifo ecco 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 trasplosano dimmi se non sono dei bulletti un alieno ieri ho colpito esso 10 centini come un altro nero dice la navicera spaziale abbastanza di cecchinalo non si fa niente sbaglio e' mortale si pare comunque parte questo qui vedete questo mega alieno e lì un altro che si è schiantato che vedete benissimo è un super mega camper della codbo qui boh questa è la parte dietro guarda c'è qualcosa e c'è dove io vincevo la maggior parte delle partite in cerche di stugge perchè camperavi esatto qua c'è un parcheggio se volete riservato notate che qua era dove si inserà camperavano tutti costruzzi tanto tanto nonostante che c'è un vestitino carino vestiti non posso qui c'è un altro perché queste che ti dà stage 13 sta strago di ricordare qualsimbra si saliva se si andava a sinistra e c'era sembra sinistra ma perché sei così stupido perchè sono stupido lo voglio tiratelo in testa già che ci sarà il gioco che fabio diceva quanti di maggio un call of duty con con il con il si problema è che non con le armi antiche tipo di arco con un po' di usare tutto siamo in arrivo siamo cratini e qua si ci si che cecchina da qua a la fai vedere aspetta questa cosa che è per no è bellissimo si è bello ci si cecchina da lì sopra da la e da la qua c'era la torre dove si mettevano i camper ieri io credo che ero uno di loro ero uno di cui erano che c'era troppo si era bellissimo ti può uccidere quelli questa parte la più bella ancora nel deserto stage il dinosauro il dinosauro e il problema di rimanere bada no no però ho già provato mi spostavo e vai adesso vedete proprio identica una cosa ecco questo quasi campionale un bovi ricordate qualsiasi buco questa partita ho fatto 451 c'è in questo momento fatto ne ho fatti 7 8 voglio dire ragazzi impiccatevi dopo questa ora qui c'è un carrozza mentre l'altra c'era l'auto è fantastico come l'ho fatta qui c'è e qua cosa se ne sono andati tutti qua c'è uno squalo morto con uno squalo aspetta facciamo un giro di piccoli facciamo vedere più lupi ah qui vi ricordate c'erano le ruote tipo invece queste minima assoluti vede qualcuno qua c'era un'auto è bellissimo ma tu lo sai a memoria eh ma va che ero visto eh beh basta ricordare qui mi ricorda di un cerchio di studio appena iniziata a sparare giù ci devi sempre uno no io non avevo lanciato il fumogeno sparata non scopri ne ho ucciso uno stresaltato nudo mmm ma che palle qui vedete buon non so cosa ci sia si può dire la segnalità tutto tutto siamo in arrivo segreto che ci si è stato che ti amazzano sempre in questa parte più bella guardate quanto è fatto bene eh la città no devo venire da qui tu 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 qui questa zona c'è già non capito mai st si la c'è punto la testa e quattro qui che bello c'è anche il coso in fiamme ma smetti ti potrebbe parlare ma mi piace qualcosa questo non si muove perchè è in fiamme eh allora vedete questa parte è quella più bella poi mi nascondo qui yawen x-ray yawen x-ray yawen x-ray e online grazie zio che ce l'ha detto ma non ce ne fregava niente questo è il budget del film stiamo immersi nel loro vi ricordate paperone dei paperoni è uguale paperone dei paperoni cosa dette? camiancino camiancino compo 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 tranquissimo vedete pistoli classifica giovedì però guarda tutti i zombie scelitati e si muovono per disque arpose dc ilge File scalitrice tutta buongiorno quello è il nero acceso e poi vedete qui un rex ciao zio e tu mi sa non puoi cambiare succedi lo spinato non si fa e' zio rex di non si fa niente poi zio poi come vi ricordate non puoi suicidare sei su sei su dire te come vi ricordate qui boccia qui c'è le solite scale inoltre si poteva fare anche un trickset facilissimo spesso però un semplice guardate io la vedo che da l'altra parte non c'è niente adesso prenderò la scossa sei caduto va bene può capitare no adesso devi piacere un'altra scossa sei morto non sono uscito questo video è finito e adesso vi faremo vedere un video di mob of the dead nella prigione di alcatra no nel prossimo video ebbè certo nel prossimo video ma anche questo è troppo lungo morivamo di insonnia vabbè insonnia brutta bestia ci vediamo al prossimo video ciao